Giornalismo e libertà di stampa, obiettività e formazione, globalizzazione e censura. Dove sta andando l'informazione 2.0? Un grande evento internazionale, oltre 400 partecipanti tra giornalisti e protagonisti della cultura e dell'informazione per parlare, discutere, confrontarsi e riflettere sul futuro della comunicazione. Festival internazionale del giornalismo, a Perugia dal 25 al 29 aprile e su Sky TG24. Grazie a tutti.